Ehi, dove vai? Non è confezionale. Con tanto posto proprio qui dovevamo cacciarci. Sai, questo è il mio posto, fratello. Tu dovresti stare di fuori in ginocchio. E in ginocchio lì? Beh, se non vuoi in ginocchiarti puoi sederti. È la prima volta, figliolo. Già. E se è così scomodo, è anche l'ultima. Dimmi tutto, figliolo. Tutto che? Ma non sei venuto per confessarti? Sì, anche per quello. E per cos'altro sei venuto? Per vedere se assolvi anche me. Prima devi confessarti e poi io ti assolverò. Ma sta attento, fratello. Tieni il becco chiuso. A parte me stesso, solo lui lo saprà. No, o resta fra noi due o non se ne fa niente. Ma come vuoi? Apriti, figliolo. Apro che? Il tuo cuore. Confessati. Ah. Allora. Vai avanti, figlio mio. Ah, beh. Quando ho compito dici anni, il mio vecchio mi portò con la sua banda a razziare il bestiame. Uno ci lasciò la pelle, ma a parte questo facemmo un buon colpo. Basta così, figliolo, ti imploro. Beh, che facciamo? Ora devi pentirti. E pentirti sinceramente. Già, sono pentito. E adesso assolvimi se hai il coraggio. Non capisco. Non capisci, eh? Assolvimi! Certamente, certamente. Stai calmo che ti assolvo. E l'absolvo, peccata tua, in nome del... Aiuto! Vado, vado, vado. Solti, era la gente. Aiuto! Stai volendo. 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 Vado, vado. Ci ha provato il fratello. Prima si è messo a parlare da solo. E poi in nome di un altro è partito con il destro. Ma no, volevo soltanto benedirti. Ecco, un destro in bocchia, vedo? C'è qualcosa che non va qua dentro. Su, avanti. Confessate. Perché pestate i peones? Non siamo noi che li pestiamo. È Lucifero. Già, Lucifero in persona. Lo conosci? Mai sentito nominare. Deve essere un professionista dell'Est. Va bene. Se questo Lucifero si fa rivedere, diteli di andare al diavolo. Che il signore vi accompagni. No, andiamo da soli.